Rosolini è sorpreso a trafugare tre quintelle in mezzo di corrube, carabinieri, un arresto e una denuncia in stato di libertà. Per il contrasto ai reati contro la persona e il patrimonio, i carabinieri della stazione di Rosolini hanno arrestato in flagranza di reato un diciottenne residente a Rosolini. Nel corso di uno dei servizi perlustrativi disposti dalla compagnia carabinieri di noto, la pattuglia militare di Rosolini in transito in area rurale ha annotato un diciottenne che insieme a un minorenne frettorosamente raccoglieva un ingente quantitativo di corrube da un campo privato. Il loro inusuale comportamento insieme alla conoscenza del territorio hanno permesso ai militari di pattuglia di accertare in pochi istanti che i due non erano agricoltori ingaggiati dal proprietario del campo ma due sconosciuti intenti a trafugare il raccolto. La refurtiva circa tre quintelle in mezzo di corrube del valore di mercato di circa 300 euro è stata recuperata e riconsegnata dal proprietario del campo. Mentre il minorenne veniva definito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni, il diciottenne veniva dichiarato in stato di arresto e messo immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il numero dei servizi esterni disposti dal Comando Compagnia di Noto sarà ulteriormente incrementato nei prossimi giorni in vista dell'ultimo weekend di luglio anche alla luce del costante e graduale aumento di turisti che hanno scelto la zona sud della provincia di Siracusa come meta per le vacanze estive.